È stato fatto un grande lavoro perché già dall'inizio della crisi abbiamo sostituito circa 14 chilometri di tubazioni, abbiamo sottoposto lavaggio con un metodo sperimentale di oltre 5 chilometri di tubazioni e abbiamo ridotto praticamente a minimi termini il livello di taglio nell'acqua. Noi abbiamo fatto già dall'inizio 4100 analisi e ultimamente abbiamo visto che la maggior parte dei risultati non rilevano più traccia di taglio. A circa due anni di distanza Gaia può dire di essere soddisfatta per il lavoro fatto. Il taglio riscontrato secondo le analisi è quasi sparito del tutto. Alcune problematiche rimangono nel territorio di Val di Castello dove in questi giorni si stanno effettuando lavaggi nelle tubature private con metodi di lavaggio sperimentali con aria compressa ed anidride carbonica. Comunque... Val di Castello ormai a questo punto è sicuramente sistemato perché le tubazioni sono tutte nuove, l'acquaduto è completamente nuovo. Secondo lei oggi i cittadini sono più sicuri di due anni fa? Direi sicuramente di sì perché due anni fa abbiamo avuto questa sorpresa chiaramente non preventivata. Per sfortuna o per fortuna oggi si effettua uno screening più accurato alla ricerca di elementi non previsti nelle acque. A questo punto cerchiamo il taglio, ma non solo il taglio, cerchiamo tutti gli elementi della tabella periodica perché molti elementi non sono previsti nelle normative, perché non sono previsti nelle normative nazionali e dall'OMS però noi facciamo uno screening su tutti gli elementi per essere sicuri di non trovarci di nuovo di fronte a un problema di questo tipo che l'azienda ha subito in modo molto pesante.